tra giocatori come era l'umore cioè giochiamo e giochiamo o comunque c'era una comoda così è stata veramente complicata perché tu sai che giochi contro una squadra che non voleva giocare perché non volevano giocare volevano spostare la partita giocano senza palleggiatore tu cosa fai? vinci, bravo hai vinto perché eravamo senza palleggiatore e così ci hanno detto a fine partita abbiamo perso un set e ci dicevano guardate partite un set con una squadra a metà cioè eravamo veramente in una situazione strana, complicata l'abbiamo vissuta veramente in maniera particolare, non come una partita comune posso assicurarvelo di partite ne ho giocate, non è stata veramente una partita come tante altre quindi c'era anche da parte dei giocatori anche proprio in campo di Trento un po' di possiamo dire schermo di sottoporre di mettermi sotto gli occhi questa questione ma sì, hanno provato logicamente a metterla con risatine con occhiate hanno provato anche a metterla sotto quel punto di vista lì dandoci un po' di pressione però non se la dovevano di certo prendere con noi noi colpa non ne avevamo non se la dovevano di sottoporre non se la dovevano di sottoporre non se la dovevano di sottoporre